a Bagnano c'è la guardia di un bike, questo anno è un gruppo di cui c'è stato giovanissimo a un certo punto di vista di uno che c'è stato la guardia di un'altra parte di uno stile di carri, di uno stile di carri, di uno stile di carri di un'altra parte di un'altra parte che c'è stato la guardia di un'altra parte che c'è stato giovanissimo, e che cosa stiamo a scoprire questa parte? Allora, sono di 200 anni e sono di Bagnano, praticamente in questo sport da 30 anni Adesso è quello che vi guardo, chiaramente, già un mio impegno. E ho tanta passione. A volte ho stato un salto, perché ci sono dei contatti simplici, in cui ho arrivato già a risultato. E' un piacere, comunque, a volte per aver bensinato, non c'era più a ottenere la stessa. Il curso era un'attività di nel tempo, ma non c'era più una grande corrente di come l'Italia. Era bello, era tecnico, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.